Sono aperte le iscrizioni per la Pijama Run a Mondello, venerdì prossimo. Di cosa si tratta? La Pijama Run è un evento di beneficenza che serve per raccogliere fondi per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell'Arnas Civico di Palermo, nel nostro caso. È un evento nazionale che coinvolge 40 città, 40 Lilt, in diretta e in contemporanea. Palermo quest'anno è il quarto hub nazionale insieme a Milano, Roma e Bari, quindi avremo il montaggio di un maxi schermo. La nostra Pijama Run è una corsa passeggiata fondamentalmente perché è destinata a tutti, anche alle famiglie. Si può fare correndo, camminando, in passeggino, col monopattino. L'importante è il Pijama. Il Pijama è un simbolo fondamentale perché è il simbolo che testimonia la vicinanza nei confronti dei bambini che sono costretti a stare in Pijama tutto l'anno, tutto il tempo in cui sono ricoverati. Non è un caso che la Pijama Run venga organizzata a settembre perché settembre è il mese del Gold Ribbon, il mese dei tumori pediatrici. Quest'anno a Palermo noi abbiamo voluto fare una grande festa, quindi cominceranno le attività per bambini dalle 16.30 con dei laboratori di radici, Piccol Museo della Natura e Circo Pificio. Poi ci sarà Lucilla, che è la nostra madrina, che è una cantante per bambini, youtuber, che darà il via alla corsa e incontrerà i bambini. Poi ci sarà appunto la corsa vera e propria in Pijama e poi alla fine un piccolo aperitivo, è un spettacolo di zumba e balli di gruppo curato da Giulietta Pedone. Siamo tutti in attesa di questa grande giornata, sono aperte le iscrizioni, ci si può anche iscrivere e ci si può iscrivere anche il loco. Al momento ci si può iscrivere sul sito www.pijamaran.it slash palermo oppure direttamente alla sede della Lilt in Viatone del Revel 10. Viene dato un pacco gara, il pacco gara che prevede una donazione di 15 euro, che è quella che va nel fondo dei bambini al reparto di oncoematologia, contiene una serie di gadget di sponsor. A Palermo abbiamo deciso che per la nostra Pijama Run il pacco gara deve essere acquistato soltanto dagli adulti, non per i bambini. I bambini verrà data comunque al villaggio una pettorina per partecipare, così tutta la famiglia può godersi questo evento ed essere presente.